Il ciclismo in Emilia Romagna, buoni numeri di quantità ma soprattutto ottimi per quel che riguarda la qualità, ovvero le vittorie in giro per l'Italia. Sì, indubbiamente, c'è molta qualità rispetto alla quantità, soffriamo la quantità rispetto a regioni limitrofe come il Veneto, la Lombardia e la Toscana, però a livello qualitativo ci siamo abbondantemente, direi che c'è un buon movimento e c'è anche un buon movimento giovanile che ci fa sperare in modo positivo che per il prossimo futuro ci sia ancora da divertirci, perché chi si impegna in questo mondo lo fa per divertirsi, ovviamente. Le donne spesso danno una mano grande anche al medagliere azzurro. Diciamo che oramai non esiste più la differenza di genere, le ragazze anche a livello regionale ci stanno dando ottime soddisfazioni. Noi stiamo crescendo in modo particolarmente interessante nel mondo femminile. Da Piacenza sino a Cattolica abbiamo un gruppo di società che stanno dando veramente grandi soddisfazioni. Parteciperemo al 25 aprile del Gran Pena Liberazione come rappresentativa regionale per la prima volta quest'anno. Contiamo e speriamo di poterne fare altre iniziative di questo genere, ma le ragazze Emiliano Romagnoli che hanno già vinto fuori regione e si sono piazzate le junior benissimo ad una gara internazionale, la prima della stagione in Lombardia con due ragazze nelle 10.